L'Inter ha 800 milioni di debiti. Com'è possibile che le venga consentito di giocare in Italia e in Europa senza conseguenze? Il web si scatena tra populismo e giustizialismo e il tifo social, lo conosciamo, non è esattamente raffinato. La situazione è seria, anzi serissima, e in pochi secondi di video non si può spiegare nei dettagli. Ma si può riassumere per dire che l'Inter non sta violando le regole. È come un qualsiasi cittadino che ha attivato un mutuo per la casa. L'importante però è restituirli i soldi alle scadenze concordate. Ecco perché fra pochi mesi Zhang sarà chiamata a far fronte al prestito in qualsiasi modo. Se non ci riuscirà, la società gli verrà sfilata con le stesse modalità per intendersi del Milan dei Cinesi di qualche tempo fa. In questa situazione mi permetto di aggiungere due particolari. Il primo, mi sembra molto superficiale, che l'Inter continui ad essere applaudita per bilanci sempre in negativo, l'ultimo di circa 80 milioni, malgrado cessioni eccellenti e incassi che vanno oltre le aspettative, tipo la Champions. Il secondo particolare è che in Italia il Tribunale del Popolo e dei Social fa i processi in anticipo, altrove non succede. Il Manchester City, per esempio. Malgrado sia sotto indagine UEFA da mesi, e con tante accuse di violazioni finanziarie, ha vinto la Champions e il Mondiale per Club senza che nessuno abbia detto ma poi se viene condannato che succede? Gli tolgono i trofei conquistati? E paradossalmente la Champions va all'Inter?